La relazione della DIA parla di una nuova criminalità nel 2020 legata inevitabilmente a quelli che sono gli effetti sociali anche della pandemia. Nel territorio ionico, nella provincia di Taranto, la criminalità come e se ha trovato terreno fertile maggiore in tempo di pandemia e in quali settori? Io credo che per poter rispondere a questa domanda bisognerà attendere ancora del tempo, bisognerà guardare ai risultati delle investigazioni che attualmente abbiamo in corso. E questo peraltro non può farci sottacere che il rischio e il pericolo assolutamente esistono. La nostra è una criminalità molto invasiva che ha delle grandi capacità di approcciarsi a tutto quello che può dare dei vantaggi economici e quindi inevitabilmente tenterà di sfruttare una situazione di difficoltà, di criticità per molti settori dell'economia del territorio. E' quello che ci si può aspettare e quello che cercheremo di evitare che accada attraverso tutta una serie di attività che tendono a verificare quello che accade attorno a noi e a investigare su eventuali reati che siano messi in atto proprio in ragione di quello che ci siamo detti. Grazie.